Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il video acquisti di luglio 2022. Eccoci anche in questo video acquisti, un po' in ritardo magari, ma nemmeno troppo rispetto al mio solito dai. Comunque in questo video non vedrete più Slam Dunk e Buonanotte Pum Pune, che erano quelle due serie che volevo completare assolutamente, ma vedrete altre chicche molto interessanti. Io ragazzi non voglio dilungarmi troppo, spero che il video vi piaccia e niente, buona visione. Bene raga, eccoci qua. Direi di partire con la prima busta. Il primo volume di questa busta, di questo video acquisti, è Shaman King numero 31. Eccolo qua, siamo quasi alla fine di Shaman King, dovrebbe finire col volume 35, credo. Non vorrei dire cavolate, ma dovrebbe finire col 35. Questa è la prima sovraccoperta e questa è la seconda, perché questa edizione bellissima ne ha due. E niente, come sapete Shaman King ancora non l'ho letto, perché? Lo sapete perché ve lo dico in tutti i video acquisti, non l'ho letto perché aspetto che finisca. Cioè, ho sfruttato, non l'avevo mai letto né visto Shaman King, c'era anche l'anime finito qualche mese fa, però non l'ho visto. Aspettavo, cioè ho sfruttato l'occasione dell'anno scorso di questa nuova ristampa di Shaman King per prenderlo, però lo leggerò quando l'avrò finito, quindi quando avrò preso anche il volume 35, che sarà l'ultimo volume in teoria. Quindi ormai sapete che Shaman King ancora non l'ho letto, quindi vi posso dire ben poco. Poi abbiamo Rent a Girlfriend volume 9, copertina bellissima, poco da dire. Il volume invece è un classico volume di Rent, non ha niente secondo me di fantastico, bello, che ti lascia a bocca aperta. Cioè, lo sapete, Rent è una serie bellina? Diciamo che questo volume è come gli altri, non ha qualcosa che lo rende più bello degli altri o meno. Ecco, è un volume regolare di Rent. Rent, ragazzi, secondo me durerà tanto, 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 perché già adesso in Giappone non è ancora concluso e sta andando avanti parecchio, quindi questo lo vedremo ancora per diversi mesi, mi sa. Ho iniziato anche il volume 10 perché, vedete, ci sono questi capitoli qua, no? L'ex ragazza e la ragazza provvisoria 1, l'ex ragazza e la ragazza provvisoria 2. Per leggermi anche 3, 4 e 5, mi sembrano, non mi ricordo. Comunque ho iniziato anche le scan del volume 10. Faccio così, cioè finisco i vari episodi e poi continuo il resto nel volume dopo. E altra cosa molto carina di questo volume, la cartolina che davano insieme. Questa proprio per, fatta apposta dall'autore, proprio per l'edizione italiana, insomma. Con Gizuru che mangia una pizza e la maglia dell'Italia, la nazionale, Bellina Bellina. Rent a Girlfriend, grazie. Questo penso sia il nome dell'autore, boh, non lo so. Comunque, toma molto carina come cosa ci sta. Dietro è così, Bellina Bellina. Poi ragazzi, ho finito questa serie finalmente. Ho preso gli ultimi due volumi che mi mancavano, perché l'ultimo è uscito questo mese, mi sembra. Sì, 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 questo mese, ragazzi, Chainsaw Man numero 8 e numero 11. Ho finalmente finito questa serie. Come vi ho sempre detto anche negli altri videoacquisti, avevo interrotto la lettura di Chainsaw Man al volume 6, mi sembra. E dal 7 in poi lo compravo ma senza leggerlo, perché sapevo che finiva con l'undici, con l'undicesimo. E leggere, perché poi sono volumi veloci da leggere, no? Leggere volumi così veloci, insomma, e un volume solo ogni due mesi era pesantissimo. E quindi ho detto, vabbè, li recupero tutti e poi li leggerò tutti insieme quando finirà. Dal 7 in poi. E così ho fatto. Ero arrivato a leggere fino al volume 6 che il manga era carino ma niente di speciale, quindi mi aspettavo poco da questi volumi. Ragazzi, dal volume 7, soprattutto dall'ottavo, cambia tutto. È bello in una maniera allucinante. Secondo me dal volume 8 in poi Chainsaw Man tira fuori tutta la sua bellezza e, cioè, è un'opera veramente bella, bella, bella. Ho fatto una recensione, mi raccomando, se vi la siete persa andatela a vedere, dove parlo appunto di Chainsaw Man. Faccio prima una recensione e poi, per chi l'ha letto, continuo il video, insomma, parlando un pochino di cosa ne penso, cioè dicendo un po' cosa ne penso io. Però veramente, veramente bello. Sono contento di averlo finito. Consigliatissimo a tutti. Veramente, leggetelo. E poi, ragazzi, ora uscirà anche l'anime a ottobre. Quindi, se non volete prendervi il manga, guardatevi l'anime che sarà fatto da Dio, non ci saranno censure e sarà prodotto da mappa. Quindi, tanta tanta roba. Poi abbiamo Dr. Stone, numero 20. È confermato che Dr. Stone finirà col volume 25, in Giappone è già finito. In Italia finirà col volume 25. Cioè, ora siamo al 20, ma poi finirà al 25, insomma. E anche questo volume è molto bello. Vediamo le menti della scienza lavorare insieme. Bellissimo. Fantastico. Cioè, Dr. Stone mi piace veramente tanto come serie. Molto interessante. Non è una serie mainstream. E l'apprezzo molto. Ve l'ho già detto, ma lo ridico per chi non lo sapesse. L'autore di Dr. Stone, autore nel senso sceneggiatore, è lo stesso di Heshell 21. E il disegnatore è Boichi. Boichi, penso, lo conosciate tutti per Sank and Rock. O, insomma, altre serie, voi ce lo conoscerete di sicuro. Comunque, anche Dr. Stone, molto bello e consigliato. È molto più avanti rispetto all'anime. Fate conto, l'anime, con la seconda stagione, cioè, dopo la seconda stagione, c'è una saga intera di diversi volumi. E poi c'è questa saga che stiamo vedendo adesso. Quindi l'anime è molto più indietro. Se volete essere in pari, ovviamente, leggete il manga. Se vi va bene anche rimanere più indietro, in alternativa, ecco, c'è l'anime. Copertine, bellissima come sempre. E niente, Dr. Stone, bello. E concludiamo questa busta con il pezzo forte. Abbiamo Dragon Ball Z, al Super Saiyan della leggenda. L'anime comics del film di Broly. Doveva uscire un anno fa, tipo a ottobre-novembre del 2021. Finalmente, ragazzi, la Star Comics ce l'ha fatta, è uscito. L'anime comics del film di Broly. Guardate che spettacolo, già la copertina, Goku vs Broly, il Super Saiyan della leggenda. Cioè, guardate. Vorrei soffermarvi molto di più, però, farci un video, fare un video solo su questo volume, sarebbe anche forse un po' troppo. Quindi, ecco, ve lo farò vedere velocemente. Il prezzo di copertina, tra l'altro, è di 6,90€. Non male. E qua dentro, ragazzi, c'è tutto il film di Broly. Guardate, tutto. Sono ovviamente i frame presi dal film anime. Cioè, non so, non è ridisegnato. Proprio i frame dell'anime, del film di Broly, l'hanno presi e messi qua, in questo volume. Guardate, che bello. Ma poi Broly, ragazzi. Broly è fantastico. Che spettacolo. Finalmente, dopo mesi e mesi e mesi a comprare Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, mamma mia, che tragedia in quest'ultimo anno, Dragon Ball Heroes, sempre. Vedere adesso Dragon Ball Z, veramente, è uno spettacolo per gli occhi. Bellissimo. Ovviamente consigliato. Inoltre, ragazzi, è uscito anche il volume di Janemba, però ancora non l'ho preso, lo vedrete nei video acquisti di agosto. C'è anche il film del Guerriero degli Inferi, cioè Janemba, insomma. Non vedo l'ora di prenderlo, perché è uno dei miei film preferiti, se no, il mio preferito, di Dragon Ball Z. Comunque, finalmente è arrivato anche quest'Anime Comics. Passando alla prossima busta, abbiamo One Punch Man numero 24. Questo qua, con questa versione qua, cioè sopra coperta, vedete? Ecco qua il sotto, bellino, bellino. One Punch Man, ragazzi, allora. Esce un volume ogni sei mesi, è troppo, secondo me. Veramente, io non mi ricordavo già più niente del volume precedente, ho dovuto riguardarmelo tutto e rileggermi tipo le ultime pagine, perché non mi ricordavo più niente. Già prima era trimestrale, adesso, raga, semestrale è tosta, eh. Due volumi all'anno è tosta. Però, comunque, One Punch Man è sempre bellino da leggere. Finalmente, ragazzi, finalmente è tornato Saitama, abbiamo visto Saitama in azione, tra virgolette, però bellissimo. Cioè, era sparito, non si vedeva più nessuna tavola in nessun volume. Finalmente, adesso è tornato, sta facendo qualcosa anche lui. Ora, non voglio farvi spoiler, no, non ve lo sfoglio. Comunque, questo è un volume molto bello e nel prossimo volume vedremo Garo. Ve lo dico, perché, cioè, in realtà, io non l'ho visto il prossimo volume, però c'era scritto in fondo a questo ventiquattresimo volume. Finalmente, rivedremo Garo. Si risveglierà Garo? Finalmente. Comunque, One Punch Man è molto bello. Spero che con questa saga finisca One Punch Man, perché, secondo me, veramente dopo questa saga non c'è nient'altro da dire. Cioè, questa è una saga che ci sta come ultima saga. Ho paura che non sarà così, cioè che andrà avanti. Però, secondo me, dovrebbe finire con questa saga, ecco. Poi, vediamo. E poi, Shaman King, volume 32, che ho comprato pensando fosse l'ultimo volume e invece poi ho scoperto che non lo era e che finirà col 35. Ho visto andare avanti, 32, non è l'ultimo. 33, non è l'ultimo. Sicché sono andato a cercare, dovrebbe finire col 35. Comunque, Shaman King ve ne ho già parlato prima, o meglio, non ve ne ho già parlato prima. Sapete il motivo. Andiamo avanti con la prossima busta, con Comic & Communicate, volume 18, 19 e 20. Ho recuperato finalmente i volumi che mi mancavano, mi sono messo in pari con l'acquisto di Comi, perché ero rimasto leggermente indietro. E ragazzi, mi voglio soffermare sulla bellezza della copertina del volume 19. Guardate che spettacolo, una delle copertine più belle. Guardate poi qua in fondo, che bella questa illustrazione. Poi con Nakanaka, bellissima, mamma mia. Veramente, se il volume è bello come la copertina, è il volume migliore della serie. Comunque, vabbè, Comi lo sapete, ve ne parlo sempre, consigliatissimo. È una serie tranquilla da leggere, molto divertente, molto bella. C'è anche l'anime, se volete, a due stagioni per adesso. Però, ecco, se non volete prendervi 20 volumi, andate avanti con l'anime, piano piano, perché l'anime è molto indietro. Sarà, non so, volume 10, poco più, ma forse anche meno. Però, ecco, è un'alternativa se non volete recuperarvi tutti questi volumi. Però Comi è consigliatissimo. Poi l'anime è fatto molto bene, quindi, se volete, guardatevi quello. E poi, raga, abbiamo questa cosa, che è la sacca della Star Comics. We love manga. No, love manga e basta. I love manga, ok. Sì, non leggo, non leggevo bene. Questa, come ho fatto a prenderla? C'era tipo un evento alla Mondadori. In pratica, prendendo tre volumi Star Comics, ti davano la sacca. Gratis. Io, ovviamente, ho preso tre volumi solo per prendere la sacca. Sì, mi sono fatto fregare ancora una volta da queste, boh, da queste bischerate. E alla fine l'ho presa. E tre volumi che ho preso sono Sailor Moon volumi 2 e 3, perché non sapevo cos'altro prendere. Era l'unica cosa che c'era e che mi serviva, oltre al volume che vedrete dopo. E quindi ho preso questi due volumi perché voglio recuperare anche Sailor Moon in futuro. Avevo già preso il primo volume, l'avevo un attimo interrotto. Però, comunque, voglio recuperarmelo. E quindi ho preso volumi 2 e 3. Sì, cosa non si fa per una sacca, ma non so nemmeno perché l'ho fatto, boh, vabbè. E poi, ragazzi, il volume 20 di Demon Slayer. Edizione limitata con gadget esclusivi. Guardate, con una raccolta di cartoline illustrate di pregio commemorative. Set di 16 postcard. Ragazzi, adesso ve le faccio vedere. Guardate, ancora tutto chiuso. Non l'ho ancora aperto, queste qua sono tutte le cartoline. Contiene il volume 20 e un gadget esclusivo, appunto. Le cartoline. Inserite in un astuccio con l'incantevole Nezuko. Ragazzi, adesso bisogna andare assolutamente ad aprirlo. Eccolo qua, ragazzi. Leviamo la plastica. E c'è, vedete, è proprio questo che è, diciamo, messo intorno. Bellissimo. Bellina l'idea. E qua abbiamo il volume 20. Come sapete, ha bellissime le copertine, come sempre. Come sapete, Lemoslayer ancora non l'ho letto perché ho fatto la stessa cosa che ho fatto per Chainsaw Man. Cioè, sono arrivato tipo all'inizio dell'ultima saga, escluso, e poi me lo leggerò tutto quando finirà. Quindi col volume 23 fra sei mesi, più o meno. E mi leggerò tutta l'ultima saga insieme. Visto che dura abbastanza, preferisco fare così, perché anche qui è difficile seguire tutto insieme cosa succede, insomma, con un volume ogni due mesi. È molto difficile. Quindi ho preferito fare così e niente. Quindi ancora questo volume non l'ho letto. Però, ragazzi, adesso andiamo a goderci queste cartoline. Allora, guardate innanzitutto, Bellina, qua, Nezuko, Bellino, questo astuccio. Bellino, Bellino. Andiamo a prendere le nostre cartoline. Tiriamole fuori con cura. Che poi anche Bellina, come sono fatte, sono tipo di carta... Cioè, non quella carta lucida, tipo le cartoline, che ne so, tipo la cartolina di Komi. Questa è lucida. Queste qua invece no, sono proprio di carta. Non so se si vede tipo... Forse non si vede. Però... Bello anche al tatto. Abbiamo questa qua di Tanjiro. Mitsuri. Guardate che belle. Nezuko. Zenitsu. Poi dietro anche dei frammenti di tavole dal giapponese. Inosuke. Kanao. Genya. Muzan Kibutsuji. Guardate che belle. Tomioka. Rengoku. Shinobu. Bellina Shinobu. Uzui. Muichiro. Sanemi Shinazugawa. Ancora non l'ho visto, sicché non so come lo chiamano nella serie. Gyo-mei. Obanai Iguro. Obanai Iguro. Bellissime ragazzi. Di nuovo Tanjiro, eccole qua. Guardate che spettacolo. Tutte queste... Queste postcard qua dietro come sono. Innanzitutto bellissime. Comunque dietro... Adesso sono tutte fatte così. Belline ragazzi, ma troppo, troppo, troppo. Che spettacolo. Pensavo costasse anche di più con tutte queste cartoline. Invece costa 8 ore e 90. Non è poco, però comunque per avere tutte queste cartoline pensavo ecco potesse costare anche di più. Belle, belle, belle veramente. Poi ragazzi, il pezzo forte di questo video. Guardate che spettacolo. Ghibli o Tec. Questa ragazzi è una guida ai film dello studio Ghibli. Me l'ha portato mia sorella da Chester. Quindi non si trova in Italia. Infatti è tutto in inglese. Guardate che spettacolo. Adesso non voglio, diciamo, prendere troppo tempo di questo video. Quindi ve lo sfoglierò velocemente così. Vedete? Qua... Vabbè, all'inizio c'è la lista dei film, insomma. E qua si parte con i film. Nausicaa. Tutti in ordine di come sono stati fatti l'Apiutacastello nel cielo. Guardate, Totoro. E tutti. Tutti film. Con alcune illustrazioni tipo questa, bellissime. Guardate, veramente bello. Però adesso non ve lo sfoglio tutto. Farò un video a parte. Perché voglio dedicare un video solo a questo. Troppo bello ragazzi. Tutto in inglese. Bellissimo. Guardate qua. Ma può profumare un sacco. Veramente, veramente bello. Mi raccomando, non perdetevi il video che farò dove ve lo mostrerò. Perché fidatevi che è tanta, tanta, tanta roba. Veramente bellissimo. E infine concludiamo con le miniature di One Piece di questo mese. Smoker. Bellina, bellina. Guardate qua. Questa posa dinamica, molto bella. E Eustace Capitano Kid. Una delle miniature migliori che io abbia mai visto, se non la migliore. Comunque, una delle migliori di sicuro. Bene raga, questi sono tutti i miei acquisti del mese di luglio 2022. Fatemi sapere cosa ne pensate, delle cose che ho comprato, di ciò che avete visto in questo video. Ditemi un po'. Fatemi sapere anche cosa avete comprato voi. Mi piace, insomma, sono curioso. Mi raccomando, non perdetevi il video in cui vi mostrerò questo bellissimo volume. Uscirà questo mese. E poi ragazzi, niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se non avete visto i video in cui vi mostro queste due miniature di One Piece nel dettaglio, c'è tra le playlist, appunto la playlist con tutte le miniature di One Piece. E se volete anche quella con tutte le miniature di Naruto. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.